Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. L'emergenza Covid-19 si fa sentire forte e dolorosa per l'alto numero di vittime che miete. Il salvare vite umane e sostenere quanti combattono in prima linea è la priorità del Paese ed è tutto il personale sanitario che va rivolto, il nostro primo pensiero e un immenso grazie. In settimana il Presidente nazionale Carlo Sangalli ha rilasciato un'intervista al giornale di Vicenza ribadendo alla necessità di interventi straordinari per i negozi e un'azione più incisiva da parte del Governo per rispondere con strumenti eccezionali ad un caso eccezionale. Rispondendo alle domande del giornalista Smiderly, il Presidente Sangalli ha ribadito è un'emergenza sanitaria, economica e sociale a livello globale che non ha precedenti nella storia ed ognuno deve fare la propria parte. Questo significa che questa crisi va combattuta insieme all'Europa e con più Europa ma raccomandando anche alle istituzioni mondiali a cominciare dal Fondo Monetario Internazionale. Solo così si potranno dare risposte efficaci a tutte le imprese, soprattutto quelle dei settori più esposti e mi riferisco, ha detto appunto il Presidente Sangalli, in particolare a tutta la filiera del turismo inclusi i pubblici esercizi e tour operator, al settore dei trasporti e della logistica, al commercio e all'edilizia. Quindi ha evidenziato, abbiamo chiesto al Governo di fare molto di più. Questo significa prevedere sindora meccanismi straordinari di indenizzo e rendere operative al più presto le misure per garantire l'operatività delle imprese per consentire di mantenere i livelli occupazionali, gli approvvigionamenti e i pagamenti dei fornitori. Anche il Presidente Provinciale di ConfCommercio, Sergio Rebeca, è intervenuto in questi giorni per chiedere misure ad hoc più incisive. ConfCommercio Vicenza ha inviato a tutti i sindaci della provincia la richiesta di esaminare ogni soluzione volta a riconoscere alle aziende l'esonero dal pagamento, quindi allo slittamento, ma esenzione, o comunque la consistente riduzione per il periodo di marzo-settembre 2020 delle seguenti imposte di competenza comunale. La tassa sui rifiuti, il canone per l'occupazione del suolo pubblico per i plateatici esterni dei pubblici esercizi, il canone di occupazione del suolo pubblico per gli ambulanti non alimentari, l'imposta sulla pubblicità per le attività dei comparti del commercio, del turismo e dei servizi. Chiediamo quindi che ognuno faccia la propria parte. Noi continueremo, conclude Rebeca, ad essere i portavoce a ogni livello delle esigenze e delle necessità delle nostre imprese. Sono molte le aziende commerciali condipendenti che in questa situazione di emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere l'attività. Per salvaguardare i livelli occupazionali, queste imprese possono accedere alle ammortizzatori sociali per i lavoratori. Sentiamo con quali modalità, alla luce delle ultime misure varate dal governo. Gli approfondimenti sono a cura del nostro ufficio legislazione del lavoro e delle relazioni sindacali. Ne parliamo con Mirka Pellizzaro. Il decreto Cura Italia ci ha dato delle conferme per quanto riguardano gli ammortizzatori sociali. Conferme che noi abbiamo sollecitato al governo dall'inizio. Cassa integrazione in deroga per le aziende da 0 a 5 dipendenti avremo 9 settimane. Quindi le aziende che ne hanno la necessità devono fare una richiesta di apertura di consultazione sindacale. le aziende invece da 5 a 50 dipendenti avranno l'assegno ordinario. È stato uniformato, quindi non abbiamo più le due fasce da 5 a 15 o da 15 a 50, ma hanno uniformato tutto con l'assegno ordinario. Anche qui le aziende hanno 9 settimane a disposizione, devono fare la richiesta di apertura di consultazione. È prevista la retroattività nelle domande, quindi anche le aziende che sono già chiuse per ordinanza possono fare richiesta. Gli uffici sono a disposizione per dare tutto il supporto possibile. Siamo a disposizione chiaramente tramite mail o telefono. Gli uffici sono chiusi al pubblico, ma siamo a vostra disposizione. Cofcommercio Vicenza ha coordinato l'iniziativa Spesa a domicilio e ha messo online sul sito www.bishopping.it l'elenco dei negozi alimentari associati che offrono ai propri clienti la possibilità di ordinare la spesa al telefono o via mail e di riceverla direttamente a casa. Ne parliamo con Federico Azzolini di Cofcommercio Vicenza. L'idea della spesa a domicilio nasce da una condivisione anche con i comuni di avere un elenco unico a cui fare riferimento per le necessità specialmente rivolte alle persone anziane. Abbiamo inviato una comunicazione via mail a tutti i nostri associati alimentari come associazioni di categoria con un link al quale l'operatore può collegarsi e compilare una semplice forma compilando i propri dati personali, l'indirizzo, l'area di somministrazione del servizio e gli orari e altre informazioni utili. Ad oggi hanno risposto quasi un centinaio di attività in tutta la provincia di Vicenza. Chi volesse aderire a questo tipo di iniziativa può contattare gli uffici provinciali di Cofcommercio. Quali sono le attività che possono aderire a questa iniziativa? Tutte le attività alimentari al dettaglio, quindi piccoli supermarket, panifici, macellerie, tutte le attività inerenti agli alimentari. Come evidenziato dalle fac ministeriali, anche dalle fac ministeriali, tutte le attività al commercio al dettaglio possono effettivamente fare il servizio a domicilio fermo restando il rispetto delle regole di distanza di un metro e tutte le norme igienico-sanitarie previste per questo momento di emergenza. Per informazioni contattate gli uffici provinciali Cofcommercio Vicenza e Ufficio Delegazioni Comunali. Vi ricordiamo che per ogni esigenza di assistenza i nostri associati possono contattare telefonicamente l'associazione oppure inviare un'email da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30, dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì solo al mattino dalle 8.30 alle 12.30. Ed ora parliamo di tecnologia. Ci sono varie modalità sul web che agevola chi è costretto a lavorare e a gestire l'attività da casa. Oggi vediamo gli strumenti per le call conference. Ce ne parla Alessandro Petracca, consulente delle strategie digitali e docente del centro formazione ESAC. Buongiorno a tutti e bentrovati. In questo video che vi faccio dal mio ufficio in smart working vi farò vedere alcuni strumenti che potete utilizzare gratuitamente con estrema facilità per facilitarvi il lavoro da remoto e anche la comunicazione con dei vostri colleghi, dei vostri amici, un po' con tutte le persone che volete raggiungere. Il primo documento che vorrei andarvi a fare vedere è quello che si chiama Hangout che è dedicato alla condivisione, alle video call, alla condivisione di comunicazione con altri soggetti e in tal proposito oltre a Hangout vi farò vedere Whereby che è uno strumento molto carino, molto affidabile, di cui si sente bene che ci permette di condividere in una forma di stanza in cui le persone possono raggiungere e vedersi, parlare, condividere share, condividere documenti, condividere video, eccetera, eccetera. Il primo strumento si chiama Google Meet, lo trovate all'interno della piattaforma G Suite ma anche chi ha un account Gmail ha questo strumento gratuitamente a disposizione. Una volta che vi siete connessi a meet.google.com, opportunamente registrati avrete una pagina come questa dove potete per esempio creare una, partecipare a una riunione dato che dovete dare il nome alla riunione, riunione prova per esempio, eccolo qua e a questo punto vi attiva l'accesso, vi farà vedere la vostra, attiva la videocamera buongiorno, eccomi qua, poi potete anche chiudere la telecamera lasciando aperto il microfono e a questo punto dite partecipate. Vedete subito che vi mette, vi propone un indirizzo, eccolo qui, in questo caso https.google.com con questo insieme di caratteri questo è l'indirizzo che darete ai vostri, diciamo, utenti che vorrete invitare a partecipare a questa riunione. Un altro strumento che ci consente di fare questo genere di attività è questo che si chiama Whereby ci si registra, ci si registra fino a 4 utenti contemporaneamente permette di avere con l'account gratuito fino a 4 utenti contemporanei che partecipano a questa room una volta che voi avete dato il nome alla vostra stanza, alla stanza dove inviterete le persone fate Go to Room e a questo punto vi attiva, come simile all'altro vi attiva la cam si dice Join the Meeting a questo punto, eccolo qui io sono nella parte sinistra e qui posso condividere questo, vedete questo indirizzo con le persone che appariranno qui qui posso anche registrare cioè faccio una registrazione di questa presentazione poi lui mi crea un file, posso usare la chat e questo c'è anche in Google Meet posso invitare più persone questo c'è anche in Google Meet e ovviamente lasciare la connessione lasciare la stanza in maniera di uscire se io esco da una stanza e sono presente da altre persone le altre persone possono continuare a diciamo tenersi in relazione tra di loro spero di esservi stato utile vi auguro una buona giornata e buon smart working a tutti Ed ora in chiusura vi ricordiamo che le attività formative di ESAC Formazione dell'ente bilaterale settore terziario della provincia di Vicenza presso il centro formazione ESAC di Creazio e nelle aziende associate sono ulteriormente sospese sino al 3 aprile incluso eventuali ulteriori informazioni verranno comunque pubblicate sul sito di esacformazione.it e per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio Vicenza è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima arrivederci buona settimana a domenica prossima a domenica prossima e vi do appuntamento a domenica prossima